Rosalinda Cannavò continua a lasciare tutti senza parole. Solo pochi giorni fa il clamoroso aggiornamento sul suo rapporto con Daiane Mello, l'attuale conduttrice di casa che è infatti stata aggiunta in queste ore alla lista di assenti alla festa esclusiva, per i 50 anni di Gabriel Garco. Il noto attore ha organizzato un party, che ha coinvolto numerosi volti della televisione e del cinema italiano, ma a quanto pare non la cannavò. Un colpo di scena inaspettato che sembra far presagire un risvolto in negativo nel loro rapporto e non solo. L'attrice non solo non ha preso parte alla festa, ma non ha dedicato nessun messaggio all'attore sui social. Questo adesso potrebbe essere il segno di una crisi nel rapporto tra i due. Un colpo di scena vero e proprio se si considera il momento che i due hanno vissuto insieme quando l'ex attrice ha preso parte al grande fratello Vip 5. Voi cosa ne pensate?